Come avrete letto dal titolo, il TG Wild si ferma e riprenderà a data da destinarsi, nel senso che per ora non ho una data in cui riprenderò. Mi fermo perché non ho più... semplicemente non ho più l'ispirazione, non mi diverto più e se non mi diverto più vengono fuori delle puntate brutte, insensate. Non volevo neanche farlo questo video, però poi ho pensato, vabbè, l'abbiamo detto su Twitter, l'abbiamo detto su Facebook, ma magari c'è qualcuno che ci segue solo su YouTube. Mi sembra giusto dirvelo, quindi sappiate che se non vedete TG Wild non sono morto, ma semplicemente non lo farò più per il momento. Però ripeto, non è detto che riprenda, ma non è neanche detto che non riprenda. Non scomparirò dalla circolazione, anzi, se qualcuno di voi ha... qualcuno di voi sicuramente avrà visto perché l'altro giorno abbiamo fatto una piccola prova live, quindi probabilmente userò quel mezzo lì, sia io che Matteo, magari vediamo di fare qualcosa insieme, il mio progetto sarebbe quello di creare un piccolo show, qualcosa in diretta, però con la vostra interazione. Quindi, ripeto, TG Wild finisce, o perlomeno si interrompe, e niente, noi comunque continuate a seguirci sul blog, su Facebook, Twitter, eccetera, 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 eccetera. Buon proseguimento d'estate, divertitevi, prendete il sole, abbronzatevi, ma fate i seri, ma non troppo. Ciao!